Giunge a conclusione la 72esima stagione della Società Aquilana dei Concerti Barattelli, un cartellone che ha fatto registrare successo di pubblico e tantissimi consensi, nonostante le difficoltà legate alla mancata disponibilità, tuttora persistente, dell'Auditorium Florio della Guardia di Finanza, che ha costretto ad una ricollocazione in altre città degli eventi di maggior richiamo. Il concerto in programma, domenica 6 maggio, all'Auditorium del Parco, con inizio alle ore 18, ospita una delle attrici italiane più conosciute ed amate dal pubblico del teatro e della musica, Sonia Bergamasco, che tra l'altro è anche diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano. Insieme al celebre estrio, tutto al femminile, formato dalla violinista Laura Gorna, dalla violoncellista Cecilia Radic e dalla pianista Laura Manzini, Sonia Bergamasco porta in scena un concerto spettacolo scritto da Maria Grazia Calandrone. Dal nome, pochi avvenimenti, felicità assoluta, scene di un matrimonio. Il lavoro nasce nel nome di Clara e Robert Schumann e intreccia una scrittura originale di poesia per il teatro, con una drammaturgia musicale presentata e articolata per l'occasione. Nelle parole di Clara, al capezzale del marito, poco prima della sua morte, fiorisce nell'avventura umana e spirituale di un incontro predestinato, in cui solo la voce della musica mantiene viva e l'ancinante la presenza, assenza di Robert, ormai ridotto al silenzio. Le dinamiche compositive tra testo e musica, il dialogo serrato e costante tra di essi, e l'articolazione scenica del lavoro sono stati orchestrati dalle quattro artiste in una serie di incontri di prove molto vivaci e spericolati. L'attività della Società Aquilana dei Concerti Barattelli prosegue già dalla settimana successiva con eventi specifici e rassegne tematiche.